ciao a tutti e bentornati alle guida ricette io sono alex siamo al mondo del barbecue e oggi andremo a vedere un'altra ricetta semplice semplice da realizzare al barbecue in questo caso barbecue a gas col quale andremo anche ad affrontare poi qualcuna delle quelle che sono le problematiche che ci troviamo ad affrontare più spesso in negozio oggi andiamo a preparare un filetto di maiale intero grigliato su barbecue a gas e accompagnato con degli asparagi e delle cipolline che tratteremo un po come quelle borrettane in agrodolce ringrazio stil cucine perché ci ha prestato questa bestia di barbecue stile è una marchia italiana barbecue totalmente made in italy in acciaio tranne le griglie perché per loro scelta invece che utilizzare grill in acciaio loro comunque vanno per la via della ghisa quindi riusciamo rispetto al bull del primo video ad avere un confronto tra un barbecue d'altissima gamma adatto anche ad essere installato nelle cucine da esterno come questo modello qui vedete ha un carrello parziale questo è un modulo della steel con cui poi potete andare a costruire un'intera cucina perché ci sono poi moduli con i fornelli moduli con i lavabi se andate su www.ilmondodelbarbecue.it nella sezione cucina da esterno trovate tutte le possibilità in due finiture inox lucido e antracite brevemente due specifiche del barbecue cosa ci aspettiamo di dover gestire bene la fiamma perché signori steel ha dei bruciatori grossi così e sono potentissimi e sfruttare anche la piastra perché per loro scelta abbiamo le griglie divise in tre segmenti e uno è dedicato alla piastra da una porta liscia da un'altra parte rigata è un'ottima aggiunta perché crea la possibilità di avere una maggiore completezza all'interno del barbecue per quanto riguarda proprio la superficie di cottura fermo restando che se volete fare tutta griglia basta comprare il secondo diffusore e l'altra griglia e si fa tranquillamente griglia integrale iniziamo dalla carne in questa situazione andiamo ad aggiungere anche intanto un altro elemento la marinatura questa volta utilizziamo una marinatura pronta di great goods questa è interessante perché si basa sui gusti dell'aglio e dei funghi non proprio una cosa usuale un po fuori dal canone barbecue ma che molto bene si sposa con il nostro maiale di cosa facciamo agitiamo bene rovesciamo questo caso vado a utilizzarla tutta quanta questa è abbastanza densa quindi la marinatura ci aiuta a portare gusto e poi la cosa che dovrebbe importarci di più mi raccomando fate attenzione di non caricare le marinature di zucchero perché altrimenti anche questo andrà a depositarsi sulla crosta esterna e rischiamo poi di andare a bruciare di non riuscire a gestire bene la marina io chiudo il coperchio prima di dimenticare altrimenti perdo tutto il nostro calore o un bruciatore al minimo e lascio che le griglie si scaldino bene per darvi un'informazione in più questo barbecue qui con un bruciatore al minimo alla temperatura intorno ai 125 gradi per le si riescono anche a fare le cotture più american style e lo e slow che le temperature più basse e più lunghe che andremo a vedere anche queste nei video futuri il nostro filetto è qui quello che farò ora è andare a chiuderlo nel nostro caso lo mettiamo nel nostro frighetto in seconda battuta voi potete metterlo in frigo quanto tempo non serve nelle marinature che il tempo di disposizione sia molto lungo soprattutto se abbiamo parti alcoliche e parti acide io non vado oltre la mezz'ora in questo caso possiamo anche allungare un pochino fate attenzione appunto a non esagerare perché gli effetti negativi andranno ad aumentare rispetto a quelli positivi questo lo mettiamo da parte e aspettiamo un pochino una mezz'oretta e lo lasciamo qui per quanto riguarda invece poi il nostro contorno ho detto degli asparagi cosa abbiamo fatto abbiamo tagliato la parte dura degli asparagi bianchi di bassano probabilmente sarebbero stati meglio quelli verdi io li trovo un po più interessanti come intensità di sapore per l'uso sulla griglia abbiamo trovato questi che sono un'eccellenza del nostro territorio quindi li abbiamo usati fatto cosa tagliata la parte dura con il pela patate spellati un pochino un po di sale e pepe questi andremo a farle direttamente sulla piastra leggermente arrostiti mantenendoli croccanti le nostre cipolle invece è data una leggera pulita mondate nella parte delle radici e dell'attacco delle foglie anche in questo caso una leggera grigliata per dargli un po di aroma d'arrostitura all'esterno dopodiché le mettiamo qui dentro dentro una teglietta coperta un goccino d'acqua un po di aceto balsamico e sfruttiamo la cottura indiretta del barbecue per portarle a cottura il nostro filetto andremo a fare la stessa cosa una volta che è finita la marinatura tamponiamo un po un velo di rub andremo a grigliarlo sulla parte di griglia modo da creare la crosta e poi se necessario lo spostiamo in mezzo chiudiamo il coperchio e sfruttiamo la cottura indiretta per finire io mi sono portato avanti voi potete sfruttare il tempo della marinatura per portare in temperatura al barbecue per preparare i contorni o perché no per aprirvi una birretta e tirare un po il fiato mentre il nostro filetto di maiale va avanti a marinare a prenderci i nostri aromi di aglio e funghi noi iniziamo a portarci avanti con le cipolle eccole qua come ho detto prima le abbiamo mondate aggiungiamo un filino di olio d'oliva in modo tale da avere una superficie all'esterno con i grassi che ci aiutino a convogliare meglio il calore le ungiamo appena appena e andiamo a portarle direttamente in griglia ora quello che facciamo cos'è le arrostiamo un pochino in modo tale che caramellizzino gli zuccheri all'esterno prendano più sapore diventino molto più interessanti i guanti li prendiamo e con la magia della diretta li facciamo sparire le arrostiamo un pochino poi le chiudiamo con un po di acqua un po di aceto balsamico e lasciamo che finiscano la cottura mezze in umido in modo che si ammorbidiscano un pochino eccoci qua il nostro barbecue già bello caldo fate sempre attenzione quando avete olio sia sulla carne che sulle verdure e in marinatura soprattutto quando poi andate in griglia perché quest'olio andrà a colare andrà a battere sopra i diffusori e la possibilità che vi inneschi qualche fiammata è abbastanza alta non abbiate paura sempre il consiglio è lo stesso quando fate cottura diretta una cottura dinamica non perdete doppio la griglia altrimenti è un attimo che partono fiammate bruciate la carne o peggio se il che non era tanto pulito e avete sotto residuo di grasso rischiate da fuoco a tutto noi quindi prendiamo le nostre cipollette le appoggiamo in questo caso sulla griglia come sempre non smetterò mai di ripetere lo scaldiamo bene le griglie all'inizio e dopo di che abbassiamo la fiamma perché il diffusore di calore è sempre la parte più vicina alla fiamma e se si sta surriscaldando poi una volta che i grassi ci finiscono sopra attacca chiamate e non c'è maniera di riuscire a evitarlo quello che faccio per non perdere calore e chiudere un po il coperchio ragazzi questo barbecue spinge tantissimo fate attenzione è una delle particolarità dei barbecue d'alta gamma hanno sempre tanta potenza tanti kilowatt bruciatori pensati per avere una grande erogazione di gas quindi a raggiungere temperature davvero importanti che però hanno la necessità di un controllo sulla mano e di un griller attento che eviti di dar fuoco a tutto quanto abbassiamo un po la fiamma e andiamo a girare le nostre cipolle che come vedete hanno iniziato a fare un'ottima crostina le cipolle hanno fatto la loro bella crostina eccole qui da un lato e dall'altro le mettiamo quindi all'interno della nostra teglietta in alluminio facendo attenzione possibilmente a non marcarle cosa ci aggiungiamo quindi qui dentro un pochino d'acqua ecco qui dose equivalente di aceto balsamico fate attenzione se avete la glassa di aceto balsamico perché ricca di zuccheri quindi tenderà poi un certo punto bruciare e poi nel nostro caso aggiungiamo un po di sale e pepe di sale e pepe della lens sale a granulometria abbastanza grossa rispetto al 50 e 50 qui abbiamo un sale più grosso rispetto al pepe lo utilizziamo per condire un pochino chiudiamo il nostro cartocetto e andiamo a posizionarlo nella parte centrale della griglia quella spenta in modo da avere la parte di cottura indiretta chiudiamo e ci prepariamo a lavorare il filetto di maiale che ormai ha marinato ed è giunto il momento di tamponarlo rabbarlo e portarlo in cottura se volete utilizzare la marinatura per fare un sugo un intingolo una salsa ne tenete da parte un pochino pulita la tenete in frigo e la utilizzate poi conseguentemente per fare la salsa non andate a riutilizzare la marinatura con cui avete marinato la carne è molto importante è vero che andiamo a a bollirla ma il rischio di avere una carica batterica troppo alta che possa poi conseguentemente non farci del bene è molto alto voi non potete sentirlo ma il profumo di funghi è veramente molto intenso noi andiamo ad abbinarlo questa volta in una maniera un po' particolare utilizzando l'usiana kajun questo è piccantino vi consiglio utilizzarlo molto sul maiale si sposa bene anche con il pollo è davvero interessante con questo ragazzi ci si possono fare anche i gamberi in umido andiamo quindi a cospargerlo sulla carne facendo attenzione come il solito non impanare eccessivamente il tutto ecco qui ripeto in questa fase è importante non esagerare con la quantità di zucchero quindi fate attenzione a che rub andate a mettere sulla carne perché altrimenti c'è il rischio di bruciare l'esterno eccoci qua prendiamo il nostro filettino di maiale ma quasi dimenticavo il termometro oggi il metter non l'ho lasciato a casa lo prendiamo lo inseriamo eccolo qui bene al cuore rispettando quello che ha il segnetto sulla sonda il nostro sensore la basetta che va a prendere il segnale della sonda e spararmela direttamente sul telefono lo attacchiamo di lato prendiamo il nostro filetto di maiale e lo appoggiamo sulla griglia a che temperatura lo tiriamo via a me personalmente il filetto piace appena rosato 62 e 64 per sicurezza andiamo a dargli un paio di gradi in più sui 66 gradi all'interno dell'app meter potete tranquillamente impostare il taglio di carne il grado di cottura a farla partire seguire quelle che sono le indicazioni importante come sempre regolare il fuoco in questo caso noi avevamo abbassato molto io alzo un pochino vedete sta iniziando a crearsi la crosta se lo sposto adesso rischio di lasciare metà del rab sulla griglia e di non permettere la formazione di una crosta fatta bene quindi per il momento lo lascio qui in che si forma bene se riuscite a vedere qui inizia già ad evaporare un pochino il nostro la nostra acqua con l'aceto che aiuterà poi a creare questa glassa che verrà assorbita dalle cipolle aumentiamo un po la potenza e aspettiamo che faccia la crosta poi lo giriamo e solo successivamente lo ribaltiamo immancabile il nostro timer anche se questa volta ragazzi sarà abbastanza indicativo siamo già al punto di doverlo girare perché come vedete si sta creando una bella crostina eccolo qui e come detto prima lo spostiamo attenzione siccome il meter non deve toccare le griglie altrimenti potrebbe bruciare come farò io adesso magari riposizionato lo un pochino quando andate a girare la carne può avere molto senso dare prima una pulitina alla griglia quindi girate spostate date una leggera spazzolata in modo che l'altro lato della carne vada ad appoggiare direttamente sulla griglia altra cosa fondamentale come già detto anche nel video della tagliata se possibile non girate la carne nello stesso posto ma spostate un po perché altrimenti quella parte di griglia da cui è stata assorbita tanta temperatura dalla carne rischierà di non farvi la crosta nella stessa maniera in cui l'ha fatta dal primo noto continuiamo a rosolare il nostro filetto da tutti i lati facendo sempre attenzione che la sondamenta non tocchi sulle griglie ma come in questo caso se non riusciamo a tenerlo bene in equilibrio quello che possiamo fare sfruttare le pinze soprattutto se hanno il blocco per permetterci di avere un punto d'appoggio che ci permette di grigliare tutti i nostri lati la crosta ormai è quasi formata guardate che bella siamo quasi arrivati al punto di doverlo spostare dalla parte della cultura in diretta per fargli finire la cottura a quel punto finché lui si scalda noi andremo a preparare anche gli asparagi ora che tutto l'esterno è ben rosolato che siamo attorno ai 53 55 gradi interni è arrivato il momento di prendere il nostro filetto di maiale e spostarlo nella parte centrale in cui le griglie sono calde ma il fuoco è spento quindi siamo in cottura in diretta e lo lasceremo qui intanto che arriva la temperatura target che come avevo detto prima sarà nel nostro caso intorno i 66 gradi ora è arrivato il momento di occuparci anche degli asparagi eccoli qua semplicissimo quindi che cosa facciamo con gli asparagi aggiungiamo un po' d'olio di oliva questo ci aiuterà anche a convogliare meglio il calore su tutta la superficie ecco qui e andiamo ad aggiungere anche un pochino di sale agli agrumi di vene q gli asparagi riteniamo molto naturali un po di sale agli agrumi un po di olio d'oliva e niente di più siamo quasi alla fine il nostro filetto di maiale ha raggiunto la temperatura target di 66 gradi a 64 il meter ha già suonato perché calcola il carry over quindi il naturale aumento di temperatura che ha la carne anche tirata via dalla griglia quindi noi quello che facciamo è prendere il filetto di maiale in questo caso vado a chiuderlo con un po di carta stagnola in modo che il calore resti all'interno e sporchi un po meno non sto facendo nessun tipo di riposo nessun approccio particolare quello che faccio è garantire il pezzo rimanga bello caldo che prenda questi ultimi due gradi nel tempo che io vado a preparare gli asparagi già che ci siamo cercando di non fare danni io ho sposto anche le nostre cipolle che ormai sono quasi pronte ma le vediamo poi alla fine cosa c'è da fare ora gli asparagi abbiamo detto innanzitutto goccettino d'olio sulla griglia o meglio sulla nostra piastra questo per avere minore aderenza e andiamo a fargli un po di crostina alziamo un po il gas e lasciamo che facciano un po di crossa nel frattempo il nostro filettino di maiale è quasi pronto qui possiamo benissimo anche già iniziare a dare una piccola pulita al barbecue spazzolando le griglie facendo sì che i residui vadano giù e facendo abbassare un po la temperatura generale a questo punto cosa facciamo poi per la pulizia spazzoliamo bene le griglie attendiamo che il barbecue scenda di temperatura tutto ciò che è lavabile e nel caso dello steel praticamente tutto andiamo a lavarlo con acqua e sapone o comunque con uno sgrassatore d'acciaio le griglie invece le lasciamo come sono andremo comunque a pulirle a caldo ma soprattutto andiamo a togliere dal fondo tutti gli eventuali residui di grasso evitare che vadano a bruciare diamo un'occhiata ai nostri asparagi li giriamo spesso in modo tale che si crei una crosta abbastanza uniforme eccoli qua vedete abbiamo fatto un po di crostina hanno preso un po di colore si sono ammorbiditi ma sono rimasti ancora croccanti siamo il dunque andiamo a preparare il nostro piatto col filetto di maiale lo tagliamo vediamo come siamo messi con il grado di cottura eccolo qua perfetto con il cuore leggermente rosato se vi piace un po più cotto basta portare la temperatura un po più alta fino ai 72 gradi va benissimo attenzione però non stracuocerlo perché un taglio delicato molto magro il rischio è quello di avere poi un taglio stopposo sicuramente morbido ma non più così succulente abbiamo il nostro filetto nostro andiamo a completare con il resto qui abbiamo gli asparagi croccanti ecco qui e le nostre cipolle che sono diventate ecco guardate che belle super morbide guardate come bella consistenza che hanno profumatissime ben arrostite e riusciamo ad aggiungere un po come vi dicevo il fondo si è ridotto è diventato una glassa che noi andremo utilizzare per condire le cipolle ma se volete perché no per condire anche il nostro filetto il nostro piatto è servito e a me tocca come sempre l'onere dell'assaggio che voi non potete fare bisognerà dare un po il parere su quello che ho preparato e devo dirvi che questa volta sono piuttosto contento perché tutto veramente invitante e non vedo l'ora insieme ai ragazzi ad andare dietro la telecamera e a marco che ci dà sempre una mano di fare l'assaggio ma prima devo ricordarvi che il barbecue della steel ricordo made in italy d'alta gamma abbiamo visto oggi quanto può essere potente quanto sia importante con prodotti di questo tipo imparare a gestire bene il calore che altrimenti rischio quello di avere tante fiammate e la carne bruciata per niente dicevo quindi barbecue i moduli cucina il termometro pinze spattole spazzole pennelli nel caso dovete andare a spennellare soprattutto rub la marinatura i sali aromatizzati tutto si trova da noi negozio a padova in via santi fabiano e sebastiano numero 3 come anche su www.ilmondodelbarbecue.it trovate anche delle informazioni per quanto riguarda le ricette i corsi che organizziamo e tutto quello che vortica intorno al mondo del barbecue che vi possa essere d'aiuto anche sui nostri canali social qui su youtube su facebook su instagram e anche su tik tok bene cosa resta da fare a già devo assaggiare partiamo dalle nostre cipollette guardate che morbide buone buone e questo piccolo colpetto alla griglia adatto ha veramente caricato il busto esterno ha quasi un sentore di fumo se lo riproparate sul barbecue a carbone sono convinto che darà ancora più spinta gli asparagi come vi dicevo sono croccanti ma mantengono anche una certa morbidezza il nostro filetto si sente ancora bene la parte di funghi e la parte agliata soprattutto è umido succoso leggermente piccantino ma soprattutto si sposa benissimo con i due contorni finché caldo noi mangiamo da alex e dal mondo del barbecue per oggi è tutto mi raccomando se vi è piaciuto il video like iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci vediamo la prossima ciao ne